Professor Canfora, quella di Renzi è più furbizia politica o è più coerenza? Perché lui dice, beh io non ho il candidato, non ci vado. Beh, questo è un argomento molto debole per uno che sta nello stesso governo sul piano nazionale. È una forma di furbizia per un verso, ma anche di larvato, a mio modo di vedere, ricatto. Come a dire, sappiate che posso sempre uscire, andare via e senza di me siete fritti. E questo, beh, d'altra parte, credo che lui non trascenda mai molto questo livello belluino, feroce, che è sgradevole. Nella politica non è un ballo, ovviamente, non è un minuetto, non è un pranzo di gala, è uno scontro serio, forte, talvolta anche duro. Ma la lealtà, secondo me, è una virtù che paga anche nella lotta politica e lui non è tanto frequentatore della lealtà.